Non eri in sala operatoria? No, il paziente ce l'ha fatta. Lexi, sta bene? Perché non glielo chiedi tu? No, non vuole che le parli. Hai voluto tu che finisse? No, è finita come sempre. Io mi affeziono a una donna e lei impazzisce. Rebecca, poi Easy, mia madre. Attiro i problemi come un parafulmine. Non sei così speciale. Lexi non è pazza. Le è successa una cosa pazzesca e la sua reazione è stata normale. Easy aveva un tumore al cervello. Rebecca, lei era pazza. Lo è diventata per il trauma della ricostruzione facciale. Non sei un parafulmine, Alex. Sei solo uno che ha avuto molti problemi. Come vorrei avere un pestoli. Tossica.